Benvenuti a Lazio News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Lazio. Emanuele Valeri, terzino della Cremonese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe finalmente coronare, al terzo tentativo, il sogno di sbarcare nel calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Valeri è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ha già comunicato alla società la volontà di non rinnovare. Sarri, che lo apprezza molto, e Fabiani faranno una valutazione sugli attuali terzini da qui a gennaio decidendo se anticipare di qualche mese un colpo già impostato per la prossima estate a parametro zero. Valeri, da tifoso bianco celeste, è pronto a coronare il proprio sogno. Ciao tifoso bianco celeste, pensi che Valeri sia un buon rinforzo? Lascia la tua opinione nei commenti, poiché è molto importante per la Lazio.